Sembravano soldi facili al punto che uno degli imprenditori intercettati dichiarava al telefono non ha idea di quanti ne hanno fatti, non sanno più dove andare ad aprire i conti correnti in giro per il mondo. I soldi di cui si parla sono i 440 milioni di euro sequestrati dalla guardia di finanza in tutta Italia dopo la scoperta della più grande truffa sui fondi di sostegno alle imprese in difficoltà mai accertata in Italia. Le indagini sono partite da Rimini ma coinvolgono 78 persone di 11 regioni diverse, 56 delle quali dovranno rispondere di associazioni a delinquere per indebita percezione di erogazioni dallo Stato, autoriciclaggio e impiego di denaro e altri beni di provenienza illecita. Ci sono anche l'imprenditore barlettano Andrea Leonetti e il commercialista bicegliese Roberto Amoruso tra le 8 persone finite in carcere con l'accusa di essere ai vertici dell'associazione che agiva in Puglia, ma tra gli indagati figurano anche un Cerignolano, un Andriese e altri 10 barlettani. I soldi su cui le fiamme gialle hanno acceso i riflettori sono quelli degli incentivi del decreto rilancio del 2020 per trasformare in crediti d'imposta l'affitto pagato per i locali commerciali e i lavori edilizi, come nel caso del sisma bonus e del bonus facciate. La frode consisteva nel generare crediti nei confronti dello Stato per canoni di affitto e lavori edilizi gonfiati o inesistenti. Questi crediti diventavano poi dei soldi veri rivenduti attraverso una rete capillare di società in tutta Italia, complessivamente 116 quelle coinvolte. Venivano trasformati in contanti, come emerso dai troll e i pini di banconute sequestrati dai militari, o investiti in acquisti di immobili e societali, in gotti d'oro e criptovalute o depositati in conti esteri a Cipro, Malta e Madeira. Tra i casi più eclatanti segnalati nella sua ordinanza dal GIP Manuel Bianchi, la richiesta di un credito per bonus facciate per oltre 41 milioni di euro. Per la creazione e commercializzazione di falsi crediti d'imposta, 8 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari, 20 imprenditori dovranno fare i conti con l'interdizione all'esercizio d'impresa e 3 commercialisti sono stati interdetti dalla professione.